L'ora di voi per maggior sicurezza il lavoro verrà svolto da remoto usando una nuova app chiamata Glu. Per qualche tempo sarà meglio così, specie per chi di lui ha una famiglia. Vai, smettila di fare Glu-Bombing dietro a tuo padre e mettiti dei calzoni. Ehi, la Barbara, come sta tua nonna? Un po' meglio? Sì, sta benone. Salutamela. Problema, problema, ma c'è solo problemi con Wi-Fi? Bander' idiota, devi mangiarli proprio adesso? Non ho bisogno di mangiare. Ti sto avvisando. Se no, che mi fai? Merla, l'ha fatta di strada la tecnologia? A me piace lavorare con Bloom, i filtri mi fanno risparmiare tempo. Che diavolo! Professore, è un orsacchiotto! Che assicuro che non lo sono! Questa è la stanza Bloom in cui posso rinnovare le mie ricette? No, è la società di spedizioni. Potete consegnarmi le medicine? Possiamo, ma non lo faremo. Oh, questo è un triste fallimento. Perché non mi presentate in ufficio di persona? Sarebbe una violazione degli standard di salute e di sicurezza. Tutto ciò che facciamo è una violazione degli standard di salute e sicurezza. Mettetevi la mascherina!